Sono Luca Pagliacci e sono il consulente per la comunicazione del gruppo Una Pera. Che da oggi, e la Pera delle mie Romani GP da oggi entra in tutte le case degli italiani. Sì, entra in tutte le case degli italiani con una pianificazione sia televisiva che stampa molto importante perché abbiamo voluto con questo messaggio portare appunto a conoscenza dei consumatori il fatto che esiste un prodotto che deve essere consumato abitualmente che è la Pera e che in più ha un'identificazione geografica protetta che dà un valore aggiunto a questo prodotto. Un prodotto che è un prodotto perfetto perché è sano, è leggero, è ideale anche per ricette dolci e salate e soprattutto è adatto a tutti, agli adulti ma anche ai bambini. Un modo per recuperare un prodotto che rappresenta anche un importante indotto economico. Sì, rappresenta veramente un importante indotto economico e anche per rilanciarlo abbiamo deciso appunto di utilizzare una comunicazione molto interessante perché abbiamo realizzato uno spot sicuramente creativo dal punto di vista realizzativo che deve appunto suscitare questo interesse, questa attenzione nel portare appunto tutti i valori della Pera sulle tavole degli italiani.